Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Ucciso a botte in discoteca, balestrato, un ventenne morto nel corso di una rissa scoppiata in un locale e il secondo caso in un mese a Palermo. Violenza sulle donne, parla Lidia Vivori, la donna palermitana sopravvissuta 12 anni fa all'aggressione del suo ex. Sulla nuova legge regionale che prevede l'assunzione per chi è rimasta sfregiata, dice tutte le vittime sono uguali. Arresti e prime condanne per i fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro, ma gli investigatori continuano a lavorare sulla rete che ha protetto la latitanza del boss. Ad Agrigento non ha Francesca spento 112 candeline, ma non è la sola ad avere superato il secolo di vita. I consigli degli esperti per la longevità, camminare, non abbuffarsi ed essere ottimisti. Calcio, il Catania regala gol e anche un bel gioco contro il Brindisi. Il 4-0, firmato da quattro giocatori diversi, fa ritrovare l'entusiasmo. Il Palermo, punito dal Cittadella, inizia malissimo il 2024. Dunque, come avete sentito dai titoli, un giovane di vent'anni è stato ucciso al culmine di una rissa scoppiata in una discoteca di balestrate. Un dramma simile all'uccisione di Celesia nel dicembre scorso. Ci dice tutto Marco Carli. Ancora violenza giovanile e mala movida nel Palermitano. Dopo l'uccisione di Lino Celesia, un altro omicidio che ha per teatro una discoteca o le sue vicinanze. Un ventenne ha perso la vita in nottata nel corso di una rissa scoppiata all'interno del Medusa, locale di Balestrate, in provincia di Palermo appunto, e poi proseguita all'esterno della discoteca. Si tratta di Francesco Bacchi, vent'anni, figlio di Benedetto Nini Bacchi, il re delle scommesse online, finito nell'inchiesta antimafia Game Over. Pare, come scrivono dei testimoni sui social, che la vittima sia intervenuta per dividere due persone che stavano litigando. La procura di Palermo ha delegato le indagini ai carabinieri della compagnia di Partinico che stanno interrogando i testimoni per identificare i responsabili. Saranno visionate le immagini delle videocamere di sorveglianza del locale. Secondo testimoni, pare che l'aggressione verso il ragazzo sia partita da sei persone per motivi ancora al vaglio degli inquirenti. A provocare il decesso sembra sia stata una caduta a terra che avrebbe fatto sbattere la testa al ventenne, ma non è escluso che la vittima sia stata assassinata a botte. Subito scattati i soccorsi e la corso in ospedale, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. È morto poco dopo al civico di Partinico. Come detto, il dramma è simile a quello del 21 dicembre scorso, quando davanti ad una discoteca, al culmine di una rissa, fu ucciso con colpi di pistola l'ex giocatore di calcio, l'inocelesia dell'omicidio. Si è autoaccusato un ragazzo di 17 anni che si trova attualmente in carcere, dopo essere stato fermato insieme al fratello Maggiorenne. Parliamo adesso di violenza sulle donne ai nostri microfoni. Torna a parlare Lidia Vivoli, la donna palermitana sopravvissuta 12 anni fa ad un tentato femminicidio. E sulla legge regionale che assume solo chi è rimasta sfregiata, dice, tutte le vittime di violenza sono uguali. Emanuela Corsi. Come non viene colpevolizzato il gioielliere che espone la merce viene derubato, perché non è una colpa mettere la merce in vetrina se il ladro è in te e ti fa una rapina. Ho capito che anche noi non dobbiamo colpevolizzarci, perché non è colpa nostra se veniamo massacrate. Sono passati quasi 12 anni dalla brutale aggressione da parte del suo ex compagno che l'ha sequestrata e ridotta in fin di vita. Lidia Vivoli è una sopravvissuta, una che è riuscita a scampare alla morte. Sul suo corpo ci sono ancora i segni di quei colpi di forbice, ma anche cicatrici più profonde. Parte le cicatrici e i punti, però le ossa rotte sono rimaste rotte, lo stesso posto automatico è rimasto, anzi è peggiorato, la lesione ai tendini, i problemi alle gambe, le rotule, sì, tanti problemi fisici, psicologici di un forte stress. Vittima per due volte dopo la scarcerazione dell'uomo avvenuta soltanto cinque mesi dopo il tentato femminicidio. Nel 2012 non era previsto che la vittima venisse avvisata, quindi lui essendo a casa e domiciliari non solo evadeva e da Terrasini veniva a bagheria per venirmi a minacciare, ma mi contattava su tutti i mezzi social, email, messenger, posti perché le aveva tutte a disposizione. In questi anni Lidia non ha avuto l'aiuto di nessuno. Sono docente solo all'arte, assistente alla comunicazione, sono anche commissario di bordo, sono assistente di volo. Non mi hanno avuto neanche per fare la commessa a Palermo. Io vivo a bagheria e non ho trovato assolutamente nulla perché comunque c'è chi dice che sono troppo titolata, c'è chi dice che sono una che potrebbe dare problemi perché ho la denuncia facile. Quindi sono anche colpevolizzata perché ho fatto ciò che lo Stato mi dice. E a proposito della legge regionale che assume che è rimasta sfregiata, dice che servono dei correttivi. Io che ho avuto tentato omicidio, sequestro, stress post-traumatico, fibromialgia, tante malattie che sono avute in seguito a questa aggressione, non ho neanche avuto pagate le viste mediche. Adesso mi sento dire che visto che ho una cicatrice solo sul sopracciglia e sullo zigomo, ma visto che non sono bruciata in faccia o dilaniata, non mi spetta nulla ancora. E a loro però spetta, i nostri carnefici quanto spetta? Loro fanno parte delle categorie protette? E noi? E torniamo adesso alla notizia di apertura perché c'è stata un'altra rissa tra giovani che è scoppiata al belvedere di Termini Merese, luogo della Movida, frequentato da tantissimi ragazzi. È successo nella notte tra venerdì e sabato, si sono picchiati due ventenni, altri coetani sono intervenuti per riportare la calma e quando sembrava che tutto fosse tornato alla normalità, uno dei due è tornato con una pistola a salve, esaminando panico, fuggi e fuggi poi è andato via su uno scooter facendo perdere le sue tracce. E di Fauzia Islam, una studentessa palermitana di origini bengalesi di 17 anni scomparsa a martedì scorso, il corpo senza vita trovato ieri nel mare di Aspra nel palermitano. Nel pomeriggio era stato rinvenuto il suo zaino sugli scogli alla periferia di Palermo, poi dopo alcune ore di ricerca il ritrovamento del cadavere. La giovane che prima di sparire aveva lasciato sui social dei messaggi potrebbe essersi suicidata, ma non si escludono ancora altre piste. Arresti e prime condanne per i fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro, ma gli investigatori continuano a lavorare sulla rete che ha protetto la latitanza del boss. Luca Ciliberti. Gli investigatori non si sono mai fermati, né prima né dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro. A quasi un anno dalla cattura del boss stragista ci sono state le prime condanne. Risale pochi giorni fa la sentenza di Lorena Lanceri, per la donna conosciuta come la vivandiera del boss, al quale era legata anche sentimentalmente 13 anni e 4 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. Il marito, Emanuele Bonafede, ha avuto 6 anni e 8 mesi per favoreggiamento. Altre due fiancheggiatrici sono Laura Bonafede e Martina Gentile, madre e figlia, la prima maestra elementare, è stata anche convivente dell'ex latitante ed è accusata di associazione mafiosa. La seconda è da dicembre ai domiciliari per favoreggiamento. Andrea Bonafede, omonimo del geometra che divenne l'alias dell'ex Primula Rossa, è stato condannato dal GUP a 6 anni e 8 mesi per favoreggiamento aggravato. L'operaio comunale sarebbe stato colui che avrebbe consegnato i documenti sanitari necessari al boss per curarsi. Manette anche per Alfonso Tumbarello, il medico che firmava le ricette del capo mafia, poi scarcerato e a processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Carcere anche per Giovanni Lupino sulla carta imprenditore agricolo, di fatto fedelissima autista del boss. Era lui ad accompagnarlo alle sedute di chemioterapia da Campobello di Mazzara a Palermo. Il 16 gennaio si aprirà il processo per Rosalia, la sorella di Matteo Messina Denaro che gestiva gli affari e i contatti per conto del boss. E poi l'ultimo arresto che riguarda Lillo Giambalvo, imprenditore col pallino della politica, ex consigliere comunale di Castelvetrano, condannato a 6 anni per estorsione ai danni di un imprenditore d'Ile. L'uomo, indagato per la sua vicinanza alle famiglie mafiose di Castellammare del Golfo, confermò in tv di aver conosciuto e frequentato l'allora latitante. L'episodio portò alla sua immediata sospensione dalla carica. Il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, oggi ribadisce costantemente che l'arresto del boss non è il punto di arrivo della lotta a Cosa Nostra. I documenti trovati, soprattutto nell'ultimo covo di San Vito, aprono nuovi spunti alle indagini. Ad Agrigento, nonna Francesca ha spento 112 candeline, ma non è la sola ad avere superato il secolo di vita. Abbiamo sentito il professore Calabrese che ha il nostro TG dall'Elisir di lunga vita. Francesco Alloi. Ha vissuto le guerre mondiali, le pandemie, la nascita della Repubblica. Nonna Francesca, di Agrigento, ha compiuto 112 anni. È la più anziana di Sicilia, ma gli ultracentenari sono sempre di più. Si vive più a lungo perché c'è una buona sanità in Italia per cui, come anche nel mondo, si cerca di fare sempre prevenzione e nel contempo si cura con attrezzature e medici sempre più preparati. La prevenzione è fondamentale. Controllarsi sempre, anche quando si pensa di stare bene, è uno dei consigli che danno gli esperti per vivere a lungo determinante lo stile di vita. E soprattutto c'è il discorso dell'alimentazione. Dobbiamo aumentare sempre di più le fibre. Non dobbiamo togliere le proteine di origine animale perché sono quelle che ci danno gli anticorpi. Dobbiamo sempre mettere i buoni carboidrati, i quali sono legati non solo alla pasta, al riso, ma anche alla frutta, anche ad alcune verdure e nel contempo i legumi che sono sempre poco utilizzati. Non sempre, però, chi vive tanto sta bene. Molto spesso non siamo in buona salute. Siamo in una situazione molto particolare in cui la longevità ci permette a volte di essere allettati. Camminare, non abbuffarsi ed essere ottimisti. È un po' questo il segreto della longevità che ci racconta chi ha spento cento o più candeline. Nonna Francesca ha vissuto sempre così. Chi vuole provare a superare i cento anni segua questi consigli. Funzioneranno, lo scopriremo solo vivendo. Nemmeno un mese fa avevano inaugurato in pompa magna il tratto dell'autostrada modica ispica e ora arriva l'annuncio che questa parte di autostrada sarà chiusa parzialmente per manutenzione. Roba da Guinness, l'ennesima figura pessima di questo governo che non perde occasione per coprirsi di ridicolo. Lo affermano la deputata 5 Stelle a Lars Stefania Campo e il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle a Ragusa Federico Piccitto. Commentando il comunicato del Consorzio Autostrade Siciliane che appunto annuncia la chiusura fino al 30 giugno per manutenzione del tratto di autostrada a Siracusa-Gela appena aperto alla circolazione. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità. Torniamo subito dopo con altre notizie. Siamo agli spettacoli al Teatro Musco di Catania e scena Non ti pago di De Filippo con la regia di Antonello Capodice e la coppia di attori catanessi Salvo ed Edoardo Saitta. Sentiamo Simona Mazzone. Giocatore tanto accanito quanto sfigato Ferdinando Quagliolo sogna di vincere un premio milionario all'otto finché il defunto padre non compare in sogno al suo fortunatissimo impiegato nonché quasi futuro genero scatenando una notevole invidia. Il padre si sarà confuso, la vincita appartiene a lui. Torna sulle scene l'esilarante coppia di attori catanesi Salvo Saitta ed Edoardo Saitta, protagonisti di Non ti pago, l'immortale commedia di Edoardo De Filippo, allestita al Teatro Angelo Musco di Catania con la regia di Antonello Capodici. Ci dobbiamo aspettare una bella storia di vita, una bella lezione di vita e ci aspettiamo anche tante risate perché Edoardo non scriveva per il pubblico quindi uno spettacolo che sicuramente divertirà che ci farà riflettere su alcuni aspetti della vita sociale, della vita matrimoniale, del rapporto tra padri e figli. Fermamente convinto delle proprie idee, Ferdinando si rivolge prima alla legge degli uomini con l'avvocato Strumillo, poi alla legge di Dio con il parroco Don Raffaele, cercando in vano alleati. Non ti pago, dice Saitta, è la commedia del sentimento e del paradosso. E' il paradosso che fa ribere, no? Questo dramma paradossale che si è fatto con il sentimento con cui si vivrebbe un tradimento del genere oggi, insomma, fa scaturire la risata. Ferdinando prima avevo qualche dubbio, ma ora mi sono tranquillizzata. Tu sei il cretino! Lo spettacolo prodotto dall'Associazione ABC sarà in scena al Musco fino al prossimo 28 gennaio. E al Teatro della Scala il 12 febbraio suonerà per la prima volta in assoluto l'Orchestra del Mare che utilizza esclusivamente strumenti ricavati dai legni dei barconi di migranti naufragati e realizzati dai detenuti del carcere di opera e da quello napoletano di Secondigliano. Il ricavato sarà utilizzato per finanziare i laboratori dei detenuti, non solo quelli di luteria ma anche quelli di Rebibbia e Monza dove vengono realizzati con i legni dei barconi anche croci e oggetti sacri. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo per aggiornarvi sui risultati delle siciliane. Eccoci al calcio, il Catania regala gol e anche bel gioco contro il Brindisi. Il 4-0 firmato da quattro giocatori diversi fa ritrovare l'entusiasmo. Marco Carli. Alla ricerca dell'entusiasmo, sembra questa la ricetta giusta per lanciare il Catania nella fase decisiva della stagione. Il 4-0 contro il Brindisi va commisurato alla qualità dell'avversario ma va anche detto che alcune partite precedenti con squadre che come i pugliesi venivano a chiudersi al massimino sono andate male. E allora fanno bene i tifosi ad applaudire il primo gol di Di Carmine ma soprattutto la sua partita perché superati i problemi fisici il bomber fa la differenza. Fa bene il pubblico a gioire nel vedere qualche trama di qualità o nell'assistera la parabola beffarda di Zammarini ruba palloni capaci di dare costanti strappi alla partita e ancora decisivo. Entusiasmo, quello che hanno portato i nuovi, quello che chiede Lucarelli. Dobbiamo giocare col sorriso sulla faccia quando abbiamo la palla e col sangue agli occhi quando non ce l'abbiamo perché secondo me un atleta triste ha già perso un partenza. L'esultanza di Costantino che dopo il rigore del 3-0 corre felici anche pieno di grinta verso la nord cascando pure è quella in cui i tifosi si riconoscono la voglia insomma di incidere di mettere da parte le paure o le timidezze sportive come le chiama Chiarella. Lucarelli gli ha chiesto di essere decisivo e ieri ha messo il primo mattone con la rete del 4-0. Adesso arrivano dieci giorni importanti con le prossime sfide di Picerno e Rimini in Coppa e con un mercato apertissimo la lista della spesa la fa Lucarelli. Dietro in questo momento siamo un po' contati anche perché Silvestri non promette bene la cosa e quindi potremmo fare degli innesti in difesa a centro campo e poi qualcosa davanti vediamo. Sconfitta esterna per il Palermo contro il Cittadella e passi indietro nel gioco e nella prestazione. Marco Gullà. Ancora una volta il Palermo torna dalla pausa con la testa ancora ai festeggiamenti e viene punito da un Cittadella giunto alla quinta vittoria consecutiva al tombolato. 2-0 Palermo senza anima, ingenuo, distratto e sempre in ritardo come in occasione dai due gol segnati dal Cittadella. La squadra ha iniziato bene, ha avuto anche l'opportunità per andare in vantaggio, abbiamo preso un gol su un fallo laterale nostro ma abbiamo rischiato oggettivamente poco e di conseguenza il primo tempo secondo me non era giusto il vantaggio del Cittadella. Il secondo tempo abbiamo iniziato con una grande occasione per poter pareggiare, purtroppo pochi minuti dopo abbiamo subito l'espulsione di Leo che di conseguenza è in inferiore numerica col Cittadella che sta vivendo un momento importante, ci ha complicato ancora di più le cose, la squadra ci ha provato ma oggettivamente era difficile poi andare a recuperare il risultato. Poche idee ma confuse, a centrocampo manca chi gestisce palla e manovra e la rendevolezza che preoccupa. La prestazione del primo tempo c'è stata, abbiamo giocato come abbiamo preparato, abbiamo creato occasioni, come ho detto in settimana dobbiamo stare più attenti sui dettagli o per primo, questo che in B fa la differenza soprattutto contro squadre di questo tipo. Mercato, nei prossimi giorni sarà ufficializzato il centrocampista Ranocchia di proprietà della Juventus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona domenica.